ragazzi il mio vicopter falcon ha fatto un cucciolo ha fatto un vicopterino salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video come avrete capito oggi parliamo di lui questo piccolo vicopter è molto molto economico soprattutto molto economico rispetto a lui il vero vicopter falcon quello originale abbiamo un prodotto che ha copiato quello che è la caratteristica di lui cioè di avere solo due bracci e due motori ovviamente questo non è un video confronto non faremo un confronto in niente era solo per farvi vedere come un'azienda cinese low cost ha creato un prodotto copiando un altro prodotto sempre cinese ma ovviamente di un'altra categoria è un'altra fascia di prezzo e di un altro livello qualitativo qua abbiamo un prodotto che costa intorno ai 150 euro però è da vedere come si comporta in volo questo drone con solo due motori è affascinante e apprezzabilissimo l'impegno nell'avere portato un drone così economico con queste caratteristiche uniche però poi bisogna anche avere un risultato nella pratica e in questo piccolo vicopter abbiamo un gimbal stabilizzato meccanicamente su due assi ovviamente un gimbal molto molto economico ve lo faccio vedere da vicino che in teoria dovrebbe tentare di stabilizzare quello che è il comparto video di questo piccolo drone qua abbiamo anche lo slot per la micro sd questo sicuramente è un punto a suo favore perché comunque tanti droni low cost non hanno uno slot per la micro sd e tutto viene registrato nello smartphone e ovviamente sia una perdita allucinante nella qualità dei video poi per quanto riguarda i materiali direi che si sono materiali economici ma non dei più economici che ho provato io nei droni low cost poi per quanto riguarda il comparto tecnico abbiamo ovviamente il gps quindi abbiamo un drone che sicuramente rimane sicuro per quanto riguarda ai return to home perché comunque lui ritorna da dove è partito abbiamo poi l'optical flow che dovrebbe aiutarlo nell'overing sia all'esterno che soprattutto all'interno perché comunque abbiamo la possibilità di volare anche senza gps e usare solo l'optical flow e il giroscopio questo per avere una possibilità di pilotarlo anche in casa o in una zona in cui non c'è il gps quindi il è attivabile disattivabile dal suo controller e poi abbiamo anche una luce a led che va a illuminare l'area di decollo e di atterraggio nel caso dovessimo volare quando è buio quindi direi che come comparto tecnico di volo non è per niente male però è tutto da testare ovviamente oggi faremo le solite prove quindi lo proveremo in overing perché è una cosa che mi incuriosisce tantissimo vedere come fa l'overing questo drone perché lui nell'overing è pazzesco chi ha visto le mie recensioni di lui sa che è una cosa impressionante probabilmente meglio anche di un drone dj è una cosa incredibile dal punto di vista dell'overing e poi proveremo a fare qualche manovra di volo per vedere come si comporta appunto nell'essere pilotato e come lo sento io nel pilotarlo perché ragazzi lui da pilotare è pazzesco lui probabilmente più bello più divertente di un drone con quattro motori e sto parlando di droni ovviamente di alto livello sto parlando di un dj ai cioè veramente lui da pilotare è incredibile non c'è si riesce a fare tutto quello che si vuole e anche di più perché è pazzesco perché questi due bracci con questi due motori gli danno una manovrabilità incredibile ovviamente non è detto che con lui succeda la stessa cosa che comunque parliamo di un drone economico poi ovviamente guarderemo com'è la registrazione video a livello qualitativo sia di qualità che di stabilizzazione e poi proveremo l'rth lo manderemo la distanza massima che lui può andare per quanto riguarda il ritorno video quindi vi dico subito che sarà intorno ai 150 metri massimo 200 non di più perché il ritorno video con questi droni in cui la connessione tra lo smartphone e il drone è solo con il wifi creato e generato dal drone ragazzi non si va oltre a questa distanza quindi saremo intorno ai 150 200 metri e l'immagine si bloccherà sicuramente a quel punto attiveremo l'rth dal suo controller e guarderemo come sarà il comportamento rispetto al pad infatti il pad è già qua pronto ovviamente è più una cosa di divertimento perché comunque non penso che lo vada a beccare però non si sa mai con questi dove lo costa è tutto imprevedibile potrebbe sbagliarlo magari di due o tre metri come potrebbe sbagliarlo di cinque centimetri come potrebbe anche beccarlo quindi proveremo appunto con l'rth che è una cosa importante per quanto riguarda la sicurezza di volo è una cosa che volevo precisare che i 150 200 metri è la distanza del ritorno video mi raccomando per quanto riguarda il controller sia molti più metri si va anche a circa 500 600 metri può arrivare il controller quindi a livello di perdita di segnale difficilissimo ovviamente andrà in crash prima il ritorno video volevo farvi vedere il radiocomando perché comunque anche radiocomando è carino ovviamente molto molto minimal nella costruzione perché è leggerissimo sebbene abbia all'interno delle batterie ricaricabili quindi tramite la porta micro usb potremmo andare a ricaricare le batterie il controller ha due antenne di cui una è finta che è questa una è vera che è questa la si riconosce perché questa al cavo mentre questa non ha nessun cavo quindi abbiamo solo l'antenna vera che è quella per il segnale del controller quindi come vi ho detto il controllo avrà molto più range rispetto al ritorno video poi abbiamo i tasti per far partire registrazione video i tasti per fare scattare foto la rotella del gimbal che qua vedremo come si comporta il movimento del gimbal perché questi droni economici normalmente uno dei loro punti deboli è il movimento della videocamera che di solito è scattosissima non è fluida magari si inchiodano anche cioè da questo punto di vista ovviamente questi droni non li dovete acquistare per fare video non pensate di acquistare un drone di questo tipo perché dovete farci dei video no per fare dei video bisogna salire di livello sia di qualità del drone che di spesa poi abbiamo la possibilità di due velocità quindi velocità lenta e velocità un po più sportiva ovviamente visto che la stabilizzazione di questi droni è già abbastanza critica ma a livello di gimbal meccanico perché sono molto molto economici se dovete fare riprese video fatele con la modalità è ovviamente lenta poi abbiamo questo piccolo tasto che va a attivare disattivare il gps come vi dicevo a inizio video e poi abbiamo il tasto per fare il return to home quindi questo lo andrete a schiacciare nel caso dovete far tornare il drone perché non sapete più dove è perché comunque ritorno video dove si è bloccato cliccate lì e lui ritorna e poi abbiamo il tasto p che è quello delle emergenze in cui proprio spegniamo il drone e lo facciamo precipitare questo ovviamente quando il drone sta per andare a creare danni contro a cose o persone quindi ragazzi spero di essere riuscito a spiegarvi le caratteristiche di questo lice rc l 100 ma adesso ragazzi è arrivato il momento di andare a provarlo andiamo allora per prima cosa entriamo nelle impostazioni andiamo a selezionare la rete xg steam che sarebbe la rete creata dal l 100 a questo punto andiamo aprire l'applicazione che è vs gps pro facciamo connettere il drone all'applicazione entriamo e perfetto vedete che abbiamo l'immagine della videocamera a questo punto direi di fare la calibrazione della bussola quindi andiamo a fare start calibration e andiamo a fare ruotare il drone per la calibrazione quindi prima lo facciamo ruotare in questo modo avete sentito il bip adesso vado a farlo ruotare in questa posizione perfetto avete sentito l'altro bip il drone è calibrato perfetto a questo punto non ci resta che decollare abbiamo 12 satelliti quindi abbiamo i satelliti necessari per un volo sicuro adesso addirittura sono 13 vado a far partire anche la registrazione video ok così abbiamo anche un riscontro per quanto riguarda la qualità video di questo drone e andiamo a fare il decollo automatico quindi vado a cliccare nell'applicazione vado a tirare lo slide e voilà lui decolla perfetto eccolo qua l'overing direi non è male non è male insomma non è bellissimo però perlomeno sta qua ovviamente niente di paragonabile al bicopter originale dove l'overing è impeccabile però diciamo dai che c'è da apprezzare l'impegno di questa azienda che ha prodotto un drone con solo due motori tenendo un prezzo basso allora a questo punto direi che possiamo farci un giretto per vedere il suo comportamento in volo il drone è stranissimo è davvero strano da pilotare bisogna prenderci la mano è davvero è particolare soprattutto perché tende un po' a scendere di quota ed è davvero davvero strano farlo girare sull'asse dello io è particolare perché scende di quota quindi quando si prende velocità bisogna stare attenti perché comunque ve lo trovate schiantato al suolo in un attimo è allora detto questo direi e poi una cosa particolare che tende a frenare in maniera davvero lenta nel senso che quando lasciamo lo stick lui non si ferma in maniera diciamo veloce ma allunga molto la frenata e sicuramente non è una cosa bella soprattutto poi per un principiante perché comunque chi compra questo drone probabilmente è un principiante e questa cosa di avere questa frenata molto lunga guardate cioè mi giro prendo velocità lascio gli stick cioè vedete quanto è venuto avanti e ancora viene avanti e cioè davvero troppo troppo per rendere il drone sicuro anche nei movimenti laterali se io mi sposto lascio gli a parte che avete visto come è sceso di quota io avevo lo stick verso destra lui si andava verso destra ma è sceso tantissimo di quota quindi bisogna rifarlo risalire perché altrimenti si schianta nell'erba e diciamo che non è proprio semplicissimo secondo me da pilotare comunque poi ne parliamo alla fine proviamo il movimento del gimbal della videocamera facendola inclinare a vedere come si comporta quindi vado ad abbassarla si diciamo che è parte lenta per poi accelerare e non fermarsi più vado a tirarla su non torna su la telecamera è rimasta giù ragazzi non mi torna su la telecamera ho dovuto spegnere il drone e riavviarlo e lei si è riposizionato adesso volevo allontanarmi un po' per vedere il suo comportamento come rth quindi mi allontano salgo anche di quota cambio la velocità perché adesso sono in modalità lenta e posso cambiare la velocità e mettono in modalità un po più aggressiva che è questa quindi siamo passati in modalità e it così andiamo un po più veloce ci allontaniamo più velocemente salgo di quota perché tende un pochino a scendere ok adesso sale anche più rapidamente avendolo messo in modalità più performante ok siamo a 150 metri vediamo ok il video si è già bloccato quindi a questo punto direi che posso andare ad attivare le rth perfetto rth attivato sta tornando anche in maniera bella decisa ha riagganciato il segnale video quindi abbiamo visto che è arrivato a 150 metri il segnale video se n'è andato ma questo è normale ragazzi con questi droni in cui il ritorno video è solo tramite il wifi del telefono e il drone quindi non ci si può fare molto è questo il suo limite poi come range di controllo dello smartphone e molto di più però come ritorno video sicuramente no sta arrivando dove cavoli sta andando siamo qua vieni qua dove cacchio sei andato adesso si sposta dove va cosa sta facendo ok forse ha trovato la sua posizione per scendere guardiamolo si sta scendendo era andato lunghissimo adesso sembra stia scendendo e anche abbastanza preciso e aspettate perché era andato lunghissimo era più o meno lì è tornato indietro perché ci ha ripensato probabilmente ha detto no ma io però in realtà non sono decollato da qui e adesso sta scendendo e probabilmente becca anche il landing vado abbassare il gimbal vediamo e lo abbassa troppo lentamente non l'abbassa anzi non abbassa proprio fa niente il gimbal non l'ha abbassato però l'ha beccato ha beccato il landing peccato che non mi ha abbassato il gimbal perché comunque il gimbal diciamo che non è proprio dei più performanti però ragazzi tanta roba è tanta tanta roba incredibile è vero non è andato lontanissimo però 150 metri è tornato si è beccato il landing la cosa assurda che era andato là ovviamente la cosa assurda che era andato fino là è tornato indietro è atterrato qua pazzesco pazzesco allora ragazzi cosa sono le mie conclusioni riguardante questo litz rcl 100 che è un drone davvero particolare è particolare in tutto è particolare per come è stato concepito con solo due bracci e due motori ma soprattutto è molto particolare nel pilotarlo davvero strano il pilotarlo ragazzi per un principiante secondo me non è facilissimo per un principiante che vuole acquistare un drone low cost probabilmente per la mia opinione la mia esperienza è meglio uno con quattro bracci e quattro motori perché ha dei movimenti dei comportamenti diciamo più semplici e più diciamo reattivi rispetto a quello che stiamo facendo con gli stick abbiamo un drone che soprattutto quando viriamo tende a scendere di quota quindi se non lo recuperiamo velocemente andiamo a schiantarci nell'erba abbiamo un drone che frena molto lentamente nel senso che lui quando lasciamo lo stick continua andare avanti anche di tanto anche di un paio di metri e avete visto il video in modalità lenta quindi il drone non aveva velocità incredibili e stessa cosa succede quando ci spostiamo sul fianco uguale cioè lasciamo lo stick e lui continua se ne va un po alla deriva e questo ragazzi non è il massimo soprattutto per un principiante che magari vola anche in posti come questo dove c'è tanto spazio ma ci sono alberi quindi degli ostacoli che potrebbero andare a danneggiare il drone quindi da pilotare non l'ho trovato il massimo però è apprezzabilissimo l'impegno nell'avere tentato di creare un drone con solo due bracci e due motori poi questo non vuol dire che il drone voli male è particolare molto particolare a differenza del bicopter originale dove ragazzi anche uno che non ha mai pilotato un drone lo prende e vola in maniera incredibile perché è pazzesco da pilotare è pazzesco qua si sente che il drone non è un drone classico e questo potrebbe creare comunque dei problemi la qualità video ragazzi non è scadentissima però neanche niente di trascendentale ma questo secondo me lo dovete già mettere in conto quando acquistate qualsiasi drone low cost che la qualità video è quella che quindi dovete prenderlo per quello che è e poi avete visto invece una cosa pazzesca che è stato l'rth l'rth è stato incredibile quindi ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto sia stato interessante spero di avervi trasmesso quello che sono le sensazioni che ho provato io nel provare questo piccolo l 100 bicopter economico se è così ragazzi lasciate un grosso pollice su seguitemi su instagram porto tantissime novità anteprime spoiler di quello che vado a fare location di dove vado a portare i miei droni a volare è sempre se vi va iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dove posso tantissimi coupon sconto riguardante i droni e tutta la tecnologia in generale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube non perdevi neanche un video un volo una recensione un test tutt'ora novità ciao e al prossimo video ciao 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 ciao